Giandonato Morra, lei ha perso questo ballottaggio, è un risultato che si aspettava in questa misura? No, però noi abbiamo avuto una realtà difficile. La diaspora del centro-destra l'aveva portato in precedenza alla caduta al commissario a Teramo. Questa è una ferita che evidentemente è rimasta impressa nel cuore e nell'anima dei teramani. Quindi attorno alla mia figura siamo riusciti a rimettere insieme un centro-destra rinnovato con tanti giovani, ma evidentemente queste componenti, aggiunte alle componenti che il centro-destra soffre molto la seconda fase del ballottaggio, più delle espressioni chiare di consenso da parte di esponenti di un centro-destra molto variegato e apolide che hanno appoggiato il centro-sinistra, sono tutte componenti, forse queste ultime non previste. Però ripeto, era un'eredità difficile, sono contento di aver fatto quello che ho fatto, quello che ho fatto seriamente, in maniera sobria e quindi sono qua insieme al mio gruppo senza nessun problema. Un centro-destra unito ce l'avrebbe fatta? Eh ma il centro-destra significa appartenenza, significa comune senso della coalizione, evidentemente questo cambio di casazza, questi appoggi palesi, che è chiaro, no? Poi ci si nasconde delle dichiarazioni, poi segneranno la vita politica di chi l'ha fatto. Io sono sempre stato dalla stessa parte politica. Morra, come anche da lei, insomma, detto e ribadito nel corso della campagna elettorale, durante le due settimane pre-ballottaggio, insomma, i toni si sono inasperiti forse un po' troppo, da entrambe le parti. Beh io non li ho usati, io sono stato abbastanza tranquillo, ho visto dei toni... Magari da parte più dei sostenitori, non dei candidati. Sì, come fasi intermedie, io e il candidato d'Alberto, Gian Guido, non abbiamo avuto queste problematiche. Magari è stato più il mondo del web, altre cose, ci sono stati degli eccessi, ma gli eccessi purtroppo caratterizzano il negativo chi li ha, non li ho neanche seguiti io. Io ho visto una campagna elettorale corretta, i confronti sono stati per la città, abbiamo approfondito anche molti temi, non è quello. Poi, ripeto, se la gente viene indirizzata da un'offesa, allora c'è da preoccuparsi. Morra da domani cosa farà? Normalmente è quello che faccio nella vita. L'avvocato, svolgerò il mio ruolo di opposizione, costruttiva, ma forte e anche decisa. Niente, la vita continua con la consapevolezza di aver fatto più del mio dovere. I forti e ripetuti attacchi a Paolo Gatti hanno condizionato, secondo lei, questa tornata elettorale? Guardate, io ritengo che questi siano eccessi. Paolo Gatti ha fatto una campagna elettorale correttissima, le soliste hanno avuto il proprio confronto. Io non ne comprendo questa aggressività, non ne comprendo questa cosa. Ho visto politici che hanno delle caratterizzazioni molto negative, vivere di rendita e stare simpatici alle persone. Magari questa persona che lavora avrà un carattere suo, avere tutti questi attacchi. probabilmente c'è qualcosa di costruito. Cosa vuole dire al nuovo sindaco di te? No, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Ha vinto, all'onore e all'onore di fare questa città. Poi notoriamente abbiamo un buon rapporto. Nulla di quello che lui non sa che penso di lui, assolutamente nulla. Complimenti, ha fatto una bella campagna elettorale, è riuscito anche a nascondere il PD, perché questo è il centrosinistra classico che ha vinto, però è stato bravo.